Michele, Luigi, Carmine, Pellegrino e Nicodemo. Loro sono l'opposto dei furbetti del reddito di cittadinanza. Persone che pur percependo il sussidio statale, la mattina si alzano per andare a lavorare. Sono soddisfatto perché mi rendo utile un po' al paese, alla società. E' una soddisfazione, diciamo, lavorare, ecco già, oggi come oggi. Prendere, essere aiutati dallo Stato con il reddito, però comunque rendersi utile. Anche se, diciamo, la mia ambizione personalmente è quella di trovare un lavoro, diciamo, a tempo pieno, guadagnare di più. E non essere sempre aiutato dallo Stato per mezzo di questo reddito. Facciamo del nostro meglio per il bene della comunità. Per noi è importante, comunque fare qualcosa è utile per tutti. Almeno le persone vedono quello che facciamo, non come gli altri che prendono i soldi e non fanno niente. Lavoravo con una ditta, poi dopo 25 anni, col fattore dell'euro c'è stata una crisi e sono state licenziate per mancanza di lavoro. Faccio i lavori qua per il comune, mi è detto a pulire, facciamo le opere, parecchie cose qua. Quello che c'è da fare lo facciamo. Quanto è importante per voi percepire sicurezza di cittadinanza, ma soprattutto lavorare? Sì, sì, è molto importante. Alzarsi la mattina e trovare lo spazio per fare lavori per il proprio comune, che è il proprio comune che io ho sempre tenuto per il mio paese e come tutti gli altri. È importante prima perché ad una certa età, come la mia, è importante trovare lo spazio per lavorare 3-4 ore e divagarsi pure facendo il proprio lavoro. E poi è importante anche per gli altri, così la comunità comunque vede e sta bene in base a quelli che lavorano per questa comunità. È un'opportunità buona che ci hanno dato, sia il comune che a me fa piacere di lavorare per l'amministrazione comunale e collaborare. E spero un futuro migliore anche per noi. Nonostante il reddito, quanto è importante la mattina svegliarsi per andare a lavorare? Per me è importantissimo perché ho un bambino e per me è importantissimo, pure se devo fare qualunque tipo di lavoro, per me è importantissimo.